let's go butchers sono power il vostro guardiano ammalato si ho passato tutta la notte con 39 di febbre quindi sto malissimo ma eccomi qui in piedi per un nuovo video per prima cosa butchers vi dico di andare a vedere sul sito della red bull nella sezione giochi in quello negli episodi il quinto episodio della serie che sto facendo per red bull in cui parlerò di allenamenti che ho ritrattato da call of duty su destiny in modo che comunque possiate migliorare le vostre skill e il vostro gameplay specialmente nel crociolo quindi mi invito tutti ad andare a vederlo il link comunque lo troverete anche qua sotto in descrizione ora passiamo subito a quello che è il primo maleficio l'arma ottenibile al grado 5 dell'armaiolo questa pistola la trovo veramente forte ma perché ha un impatto elevatissimo uno dei più alti del gioco una cadenza molto bassa per questo tipo di pistola una gittata comunque abbastanza ottima una stabilità che sinceramente è bassa ma non si percepisce dovuta alla bassa cadenza una ricarica molto lenta quest'arma viene data a 290 di attacco io l'ho maxata e l'ho provata un po in pvp e pve per prima cosa il suo perk esotico occhio sanguigno usare il mirino fornisce un bonus di gittata stabilità e velocità di movimento sì quando si mira andrete veramente più veloci avrete mi sembrato i due all'agilità e comunque il bonus di gittata e stabilità è veramente alto e vi consentirà di fare headshot anche a lunga distanza cosa che è molto difficile con molti cannoni portatili utilizzo balistica morbida per avere ancora meno rinculo e un pochino di penalità all'impatto oltre a questo possiede di ripro colpo cioè che i colpi precisi infletti in rapida successione ripristiano un proiettile nel caricatore cioè ogni headshot riavrete un colpo gratis nel caricatore in più utilizzo ricarica rapida poiché è già molto lenta ricaricare di suo quindi sinceramente l'unico perk della terza colonna utile e poi l'ultimo perk esotico che è primo maleficio le uccisioni precise usando il mirino aumentano la gittà della stabilità fino alla prossima ricarica quest'arma della tex macchina la sorella gemella dell'ultima parola è veramente forte proprio il contrario dell'ultima parola un'arma lenta ma che fa un'elevata quantità di danni questi danni sono perfino superiore a un'arma come il coniglio di giada come vedete qui dal gameplay che ho provato a fare in cui giocavo anche con il coniglio di giada praticamente quest'arma ha un danno che è persino più alto del coniglio di giada e vi permette anche di fare headshot da lunghe distanze l'importante essere precisi magari fare anche un headshot prima in modo di sbloccare il perk primo maleficio il primo maleficio rispetto al coniglio di giada ha un impatto così elevato che fa quasi un terzo del danno in più fa ben 5212 i di headshot di colpo critico che è una quantità esagerata in confronto comunque al coniglio di giada che fa da corta distanza 3564 quando si parla invece di lunghe distanze il coniglio di giada fa ben 1714 mentre il primo maleficio ben 1609 è una cifra elevata per un cannone portatile e poi come vedete è molto più facile fare headshot con quest'arma rispetto comunque agli altri cannoni portatili questo dovuto al suo perk esotico che è occhio sanguigno e anche per l'ultimo perk esotico primo maleficio quest'arma è veramente forte in pv l'ho provata un pochino andando in giro facendo qualche missione ed è veramente divertente da usare specialmente per via del triplo colpo e di quelli che sono i suoi due perk esotici che gli consentono di fare un danno elevatissimo a qualsiasi distanza per quanto riguarda il pvp beh la storia cambia quest'arma fa più di 90 di danno in testa solitamente ma comunque la sua cadenza bassa non la rende una delle migliori armi per il pvp è sicuramente una scelta opzionale se volete divertirvi usare un'arma particolare ma sinceramente se dovete usare un'arma per il pvp beh vi consiglio di usare altro quest'arma è divertente più che altro perché è facile fare headshot vi muovete comunque abbastanza velocemente e dovuta alla comunque alla sua bassa cadenza e al suo alto impatto vi consentirà di uccidere avversari che magari sono stati feriti un pochino vi basteranno due colpi ben piazzati per distruggere un avversario che è stato ferito io vi consiglio comunque di utilizzare un'altra arma rispetto al primo maleficio per i più coraggiosi provate ad usarla in pvp e vedrete che comunque è forte sì ma non è una delle migliori armi per il pvp io vi saluto bitches spero vi sia piaciuta questa recensione del primo maleficio vi saluta power il vostro guardiano preferito dalla torre dei feral blood let's go vuoi combattere al mio fianco quando vuoi guardiano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti